Secondo appuntamento pomeridiano degli incontri Frisini, quest'anno la rassegna di incontri è dedicata alla trasversalità dei saperi, cioè al tentativo di mostrare come i compartimenti stagni delle conoscenze, dei saperi, costituiscono un elemento che deprime il sapere stesso e la ricchezza dei saperi. Abbiamo passato in rassegna nell'ultima conferenza il tema, il rapporto tra matematica e biologia, tra matematica e epidemiologia. Oggi ci occupiamo di un tema straordinariamente interessante e importante, quale è quello del colore, cercando di leggerlo in una sorta di va e vieni tra l'esperienza soggettiva del colore e la sua struttura di ordine scientifico, cercando di mostrarne appunto anche in questo caso gli intrecci e le interconnessioni. Il tema del colore è un tema universale in un duplice senso, nel senso che è costitutivo dell'umanità stessa, non esiste complesso umano, collettività e umanità che non si sia occupata del tema del colore. E allo stesso tempo universale nel senso che attraverso il colore è possibile osservare, ordinare e definire in qualche modo un universo di senso e di significato. Ad aiutarci, ad orientarci in questo tema così straordinario e complesso al tempo stesso c'è con noi oggi Aldo Bottoli, perception designer, progettista, docente, è stato docente presso la scuola di design del Politecnico di Milano e anche presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Al tema del colore ha dedicato tra l'altro anche un libro che si intitola Scienza del colore per il design, un libro scritto con Giulio Bertagni. Ecco, io direi che possiamo lasciare a lui adesso la parola e come ci ha invitato a fare prima dell'inizio di questa nostra riflessione comune, cercheremo di intervenire e di far diventare questa occasione un momento di riflessione appunto comune, il più possibile partecipata. Io ringrazio anticipatamente il professor Bottoli e lo invito a prendere la parola. Grazie mille. Grazie a voi e buona serata a tutti. Iniziamo questa passeggiata attorno al complesso tema del colore. Inizio a togliere un po' di colore dalla videata. Ogni paesaggio percepito è figlio della luce e dell'ombra. Quindi vorrei iniziare ponendo l'attenzione sull'essenza del colore che è data dall'energia, da una radiazione e non dal colore in sé. Come organizziamo questa nostra passeggiata? Questo nostro passaggio a nord-ovest, perché ha una sua complessità, attraverso alcune parole chiave, alcuni concetti, quindi alcune note biografiche di apertura, il mondo in bianco e nero, il colore come fenomeno auto-evidente, per vedere non bastano gli occhi, e poi una seconda parte sulla fisiologia della visione, quello che è l'apporto delle neuroscienze appena appena accennato, perché è un mondo enorme, e il significato deriva dal contesto. Questo è un po' un attraversare, un tema estremamente complesso, che nessuna disciplina può racchiudere, come prima diceva Claudio Fontana, il tema dei saperi a compartimenti stagni non si adattano a un tema, a un fenomeno assolutamente pervasivo e trasversale, come il colore. Quindi, con lo spirito di Paolo Frisi, eclettico intellettuale dei molteplici interessi di fisica, matematica, ingegneria, idraulica e architettura, è scritto sul vostro sito, iniziamo questa passeggiata. L'immagine di mio fratello, con questo intreccio tra l'espressivo e le tecniche di rappresentazione, può essere una buona base. Anche l'approccio che Paolo Frisi ha sempre avuto nel narrare, nello spiegare questo suo appassionarsi al mondo e alla scienza, che è stato fatto da quanto ha preso attraverso forme di conversazione, e quindi con uno spirito che intendeva comunicare, trasmettere, ecco, con questo spirito e con questa logica cerchiamo di iniziare la passeggiata, dialogando. Ecco, l'invito anche a Claudio è quello di interrompere o comunque mantenere un minimo di dialogo. Prometto. Grazie. Quindi iniziamo da qualche nota biografica, perché quella mia, di mio fratello, e di mia sorella, poi a lato, è un'esperienza molto fortunata, che è alla base di questo nostro percorso. Quel personaggio con la matita in mano e i capelli lunghi sono io, anche se ormai i capelli non li ho più, sono in braccio a mio padre, e si vede lo sfondo di questa zona tra due case, quella della nonna e la nostra, completamente dipinto. Erano le superfici sulle quali papà, nonno e lo zio si allenavano e facevano le prove di decorazione. Quindi il colore era attorno a noi, a noi, tutti i fratelli, eravamo coinvolti da questa cosa. Lì si vede mio fratello Andrea, piccolino, in braccio alla mamma. Io sono nel lato di destra, mia sorella è quella centrale. E questo era uno dei pannelli decorativi, erano le insegne pubblicitarie del tempo. Si vede il muro completamente dipinto, ma si intravede anche un ramo sagomato, quindi c'era una sorta di allestimento, di scenografia, di rappresentazione scenografica che noi abbiamo sempre avuto intorno. Quindi il tema della drammaturgia del quotidiano, come chiamo io le mie installazioni o il mio percorso di ricerca, nasce da lontano. Storie colorate sulle pareti, questa era una costante, perché i dipinti erano molto grandi, venivano srotolati dall'alto della parete e via via venivano poi dipinti. E noi avevamo queste grandi rappresentazioni sempre attorno, pannelli, grandi dipinti, molte volte facevamo i modelli noi stessi. Poi il passaggio all'Accademia di Belle Arti, Brera, gli anni 70, il Bar Giamaica, per chi conosce il mondo di Milano, dell'Accademia, era un punto di riferimento. I miei primi maestri, gruppo T, gruppo T Arte Cinetica, quindi Davide Boriani, De Vecchi, Forgest, Davanzati, sono stati i miei primi maestri, diciamo. E il mio modo di intendere l'arte ha avuto questo tipo di, come dire, divisione davanti. Io non mi ritrovavo nell'arte da cavalletto, non mi ritrovavo nei Borra, nei Minguzzi, in questi grossi personaggi, mi ritrovavo allora, come giovane studente, in chi progettava l'arte. e il gruppo T era composto da architetti o comunque da artisti che mettevano davanti il progetto alle loro opere, diciamo. I primi gesti, questi sono dei graffiti che avevo appreso come tecnica da mio padre, che poi ho trasferito come mie prime manifestazioni. Questa è una base NATO, dove ho fatto il militare, e che qualche collega mi ha mandato un 5-6 anni fa e sono ancora là, quasi intatti, pensando che questa è una base abbandonata, dove fanno delle prove di assalto con i fucili, con i colori. Adesso non so come si chiama questa battaglia con i fucili e pallottole di colore. e queste superfici sono rimaste praticamente intatte, quindi mi piace far vedere questi primi gesti. Il passaggio al colore sono nato due volte, qui si innesca un po' uno dei temi che poi andiamo ad affrontare. Fino a quel momento il mio approccio al colore è stato un approccio espressionistico, il mondo dell'arte sostanzialmente. in quegli anni però avveniva qualche cosa, John Hott, la NASA che apre al mondo una parte delle proprie ricerche, le neuroscienze che incominciano timidamente a prendere spazio e a comunicare delle cose e io ai tempi avevo organizzato questo convegno al Salone del Mobile e avevo cercato di raccogliere dei personaggi un po' internazionali attorno a questo tema. fra i personaggi c'era anche mio fratello che allora iniziava il suo percorso di studio attorno all'arte e al colore. Questo è stato un inizio per me significativo perché mi sono reso conto che erano più le domande da porsi e da porre che le risposte e quindi ho iniziato un nuovo percorso di studio legato al tema del colore. Questo è Jorrit Torquist è un etologo artista austriaco che non parlava ai tempi molto bene l'italiano neanche adesso ma allora meno e io ho curato il suo libro Luce e colore quindi l'ho aiutato a dare forma con l'Istituto del colore che ho coordinato per un certo periodo a questo primo libro ecco l'approccio e l'incontro anche con Jorrit è stato un altro dei passaggi significativi per me come con Narciso Silvestrini come si diceva prima poi le grandi mostre questa è una mostra che ho fatto al 6 e 2 di Bologna coinvolgendo 82 aziende e quindi i centri studi l'osservatorio colore Liguria che ha funzionato per 6 anni qui il tema era il paesaggio il colore nel paesaggio e è stata un'occasione di studio di ricerca molto importante il color show dove abbiamo cercato di creare un percorso informativo didattico informativo che desse la possibilità in poco tempo anche a un addetto ai lavori a un politico di rendersi conto di come il colore poteva essere utilizzato per migliorare spazi di lavoro per migliorare spazi urbani il color show ovviamente aveva dei momenti di intrattenimento e di didattica attraverso il colore abbiamo ospitato sempre un gruppo di 6-8 ragazzi facendo degli accordi con le università italiane e una per ogni anno straniera abbiamo pensato di fare uno spettacolo per i bambini che affrontasse il tema del colore con dei giochi didattici e quindi l'ultima esperienza sul centro studi in Brianza l'osservatorio colore interni qui il tema è stato quello di capire come il colore negli spazi racchiusi potesse essere utile per migliorare la qualità della vita sostanzialmente l'approccio è un approccio non estetico ma un approccio etico le serate di filosofia e progetto anche qua il tema della trasversalità era centrale un filosofo un psicologo un genetista un fisico si sono confrontati sul tema dell'impiego del colore negli spazi abitati e quindi l'esperienza che è ancora in corso del qualificare gli spazi quotidiani attraverso gesti forme che possano riportare in uno spazio comune piccolo il senso di auricità che in questo caso il sacro richiede quindi l'apporto del colore della luce e del gesto qui vedete un apporto di mio fratello che compare sempre anche qua a Conegliano dove io ho fatto la parte di scultore io all'accademia dell'arte ho fatto scultura e mio fratello è intervenuto sulla parte centrale la ricerca comunque di come portare nel quotidiano l'esperienza dell'arte l'esperienza del colore è sempre stato un elemento diciamo di continuità e la storia continua quindi adesso entriamo nel nel mondo del colore questo per dirvi che non ci sono arrivato per caso che ho dovuto fare una lunga strada comunque e che il mio imprinting iniziale come quello di mio fratello era legato al mondo espressionistico del colore e ho dovuto allontanarmi molto per incontrare anche l'altra parte strutturale per intrecciarla e adesso a tarda età più liberamente posso di nuovo ritornare a riprendere dei gesti e delle consuetudini in maniera più ricca attorno al tema del colore le domande sono tantissime veramente tante qui ho fatto un'estrema sintesi ma ci dà l'idea di di una complessità perché esiste da che cosa è generato dove si trova sembrano banali queste domande ma se proviamo a dare una risposta una dove si trova il colore che audio ha davanti a sé per esempio non è così immediato rispondere perché il colore che Claudio ha davanti a sé sulla scrivania non è su quella scrivania su quell'oggetto ma è nella sua parte posteriore del cervello e questo significa che noi abitiamo un mondo in bianco e nero significa che intorno a noi non esiste colore non è così banale questo fatto il fatto che non esiste ma lo vediamo già è una contraddizione che fa riflettere e se proseguiamo su questa strada ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con qualche cosa che non si vede la luce e qualcosa che non esiste il colore e sembra una contraddizione come non si vede la luce beh no il fotone che è l'elemento che costituisce il faccio di miliardi di miliardi di fotoni emessi da una sorgente non si vedono quando sono nell'aria quando sono nello spazio si vedono solo quando incontrano una superficie e questa superficie in modo selettivato li riemette se non c'è una superficie non si vedono i fotoni non si vede la luce quindi la luce è un'apparenza che si genera esclusivamente nel nostro cervello fuori e senza l'umano senza un animale che osserva non esiste luce non esiste colore ma energia radiazioni cosa lo può condizionare questo colore è un fatto oggettivo comune a tutti gli esseri viventi animali o vegetali quando e dove sono nati le morali del colore per noi occidentali cosa determina i significati che assume è soggetto alle mode e se il colore inganna come lo posso governare perché il tema di me che va a passeggio a fare la spesa o a lavorare il colore l'osserva e non si pone queste domande ma se io devo progettare se io devo creare le condizioni affinché uno spazio possa assumere un certo tipo di apparenza e di efficacia o meno allora devo sapere cosa lo genera e come governare le apparenze Aldo posso intervenire sulla base degli accordi che abbiamo avuto vai allora mi pongo la questione c'è un tratto comune a tutti questi interrogativi che sono interrogativi come dire semplici e allo stesso tempo radicali nel senso che vanno alla radice mi chiedo esiste un termine comune a tutti questi interrogativi propongo questo termine comune poi se vuoi ne discutiamo ed è il rapporto tra apparenza e idea questa è la crucialità del colore io provengo da una formazione che è una formazione fenomenologica e quindi per me il tema del fenomeno cioè di ciò che si manifesta è cruciale e il colore è l'espressione della crucialità del rapporto tra apparenza e idea è esattamente come dire l'intersezione tra la dimensione dell'apparire e la dimensione dell'ideare abbiamo un'idea di colore e poi abbiamo i colori e questa è una delle difficoltà ma anche uno degli elementi di grande sollecitazione che ci pone dal punto di vista come dire intellettuale il colore non so se sei d'accordo assolutamente certo è una delle affermazioni che anche Osvaldo da POS psicologo sperimentale di Padova che fa parte del comitato con me lui sostiene che l'oggettivizzazione o l'oggettivazione del colore è data dalla sua percezione io lo vedo lo descrivo e lo oggettivizzo addirittura Osvaldo da POS dice a me non interessa quali sono i meccanismi che lo generano a me interessa cosa vedo il risultato la mia percezione del mondo poi le altre sono scale alle quali non ho accesso è il troppo piccolo il troppo grande noi viviamo nel mondo di mezzo come Boncinelli dice noi siamo sensibili ai macro oggetti il mondo dell'infinitamente piccolo dell'infinitamente grande non c'è consentito sono dinamiche che esistono ma che vanno dell'azione percettiva e quindi sono fenomeni che ci riguardano fino a un certo punto diciamo ecco il colore è a metà strada in questo senso è l'estremamente piccolo è l'estremamente grande ed è il fenomeno all'interno del mondo di mezzo dei macro oggetti quindi sì questo è un tema cruciale i presupposti la materia non ha colore gli stimoli sensoriali non sono colorati il colore è energia elettromagnetica radiante quindi noi abbiamo a che fare con qualche cosa che vediamo che percepiamo ma vediamo e percepiamo una parte della sua realtà parte che ci va benissimo per la nostra vita di tutti i giorni di persona comune parte che invece se lo devo progettare beh devo conoscere in qualche modo la sensazione colore prende forma nelle aree deputate alla visione quando osserviamo una superficie o un oggetto capace di riemettere una parte delle radiazioni luminose che lo colpiscono secondo uno spettro di riemissione definito senza un essere vivente che osserva il colore non esiste il colore non appartiene alle superfici delle cose ma solo alla mente dell'osservatore animale o persona che sia anche gli animali vedono i colori in modo diverso da noi in maniera più limitata alcuni in maniera più estesa altri gli animali non assegnano al colore un nome gli umani assegnano a questo fenomeno un nome il mondo è luce buio e ombra ciò che chiamiamo colore è un'apparenza assegnata alle superfici o agli oggetti per riconoscere meglio ciò che poteva essere pericoloso o più utile o gustoso per cibarsi e qua banalizzo il concetto dicendo sì ma perché siamo sensibili al colore beh perché facevamo prima a riconoscere l'animale pericoloso facevamo prima a cacciare facevamo prima a evitare di salire sull'albero per cogliere un frutto che non era ancora maturo riuscivamo a gestire meglio il cibo velenoso o non più buono da quello invece gustoso e buono e non pericoloso quindi il nostro modo di selezionare di essere sensibili a determinate lunghezze d'onda in particolare quelle del verde giallo è legato alla sopravvivenza al cibo in particolare e tutte le nostre prerogative di lettura del mondo sono legate al tema sopravvivenza e evoluzione all'interno di un certo tanti cercate di pensare ma gli uomini le persone prima quando abitavano in un contesto naturale che cosa dava loro dovevano reagire a certe condizioni ispiratevi a quelle condizioni perché noi siamo animali antichissimi modificazione significativa dal punto di vista genetico risalga attorno ai 200 anni fa quindi è chiaro che luce di tecnologia va molto poco rispetto a tutta la struttura che invece si è sviluppata in un periodo lunghissimo quindi il mondo fisico ha questa apparenza cioè ha questa realtà non ha questa apparenza i pigmenti che li rivestono o per la struttura con la quale sono fatti rimettendo in modo selettivato la luce si genera l'apparenza quindi il mondo che noi osserviamo colorato è un'apparenza che il nostro cervello crea apparenza che era funzionale a sopravvivere meglio a riconoscere meglio perché se questa immagine fosse completamente in bianco e nero faremmo fatica a distinguere intanto l'uva chiara da quella scura ma faremmo distinguere se faremmo fatica a distinguere se un frutto è maturo o meno eccetera quindi la nostra capacità di selezione del colore nasce da un bisogno teniamolo presente questo il colore è autoevidente e questo è uno degli inghippi con i quali abbiamo a che fare perché l'abbiamo sempre visto è sempre stato parte della nostra esperienza di vita e quindi che problema c'è un po' come l'aria mica ci poniamo le domande sull'aria sì adesso con lo smog magari ci viene voglia di farci qualche domanda in più ma in condizioni diciamo di passeggiata all'aria aperta non riflettiamo più di tanto sull'aria ecco sul colore è un po' la stessa cosa tutto è colorato e quindi non non gli deniamo troppe domande teniamo presente una cosa che è molto non so ancora dare una risposta ma è così il fatturato più alto al mondo è dato dalla chimica dei coloranti non dalla guerra non dall'energia ma dalla chimica dei coloranti e se ci riflettiamo dalle medicine al cibo dall'automobile alle case dai vestiti ai libri alla stampa cioè tutto è colorato quindi è plausibile il fatto che il fatturato maggiore al mondo sia generato dalla chimica dei coloranti la cosa anacronistica è data dal fatto che non c'è una sola università che si occupa del colore in maniera strutturata non c'è un corso universitario che si occupa del colore in modo strutturato c'è qualche raro e confuso master e nient'altro e questa è una domanda al quale non so dare una risposta ma perché se il colore è così importante pervasivo e muove un mercato enorme non c'è un corrispettivo di formazione di competenze che lo sappiano gestire al meglio chissà ma questo è un dato di fatto viviamo dentro due contingenti del fenomeno colore è una delle complicazioni che dobbiamo ricondurre a studio e a progetto poi e questa nostra doppia abbiamo perso Aldo scusami abbiamo perso un pezzettino della tua ultima frase perché il collegamento ha fatto un po' i capricci ah ho capito stavo parlando della doppia natura questa clessidra che vedete rappresenta un po' questa natura biologica e natura culturale il colore possiede una sintassi complessa sia di carattere naturale che culturale naturale nel momento in cui noi li utilizziamo per riconoscere un frutto maturo per esempio culturale quando noi gli assegniamo dei significati e questa condizione ha un doppio binario che qui ho cercato di sintetizzare è sempre come dire nella logica del creare una mappa che congela la realtà quindi questa non è la realtà è una rappresentazione della realtà che ci serve per fissare un momento la dinamica in corso diciamo che abbiamo il nostro occhio c'è un prima e un dopo l'occhio prima abbiamo detto che c'è energia elettromagnetica radiante radiazioni non c'è colore ci sono dei fenomeni fisici di interazione fra la luce i fotoni e gli elettroni della materia che si caricano dei fotoni quindi dell'energia elettromagnetica e che la riemettono in modo selettivato radiazioni questa parte noi possiamo misurarla ha una sua oggettività con gli strumenti possiamo rilevare questo tipo di condizione fisica nei momenti in cui la radiazione entra attraverso l'occhio e viene elaborata nel cervello poi vedremo come ecco che si generano delle apparenze dei significati delle esperienze e diventa un fatto culturale non più misurabile quindi io ho il colore che nella sua componente fisica ha una sua oggettività misurabile nella sua componente nella sua apparenza significante culturale non è più così oggettivo ma è soggettivo non è così misurabile ma è interpretabile e qui si apre il grande monto dell'espressione artistica anche nel momento in cui questa forza espressiva del mondo dell'arte delle arti in generale si sa dotare delle caratteristiche delle prerogative anche fisiche del colore ecco che si fa un passo in più e adesso vediamo l'ambiente fisico nel quale si pone il percetto cioè tutto tutto ciò che noi osserviamo e la condizione biologica del percettore cioè noi che osserviamo si connettono con la complessità delle relazioni tra gruppi di individui nel senso che noi siamo un'esperienza incarnata attraverso il nostro corpo ma in relazione con gli altri e con l'ambiente noi non possiamo considerarci un'unità separata dal resto la nostra con il mondo è il nostro più profondo che pensiamo essere è il nostro reato più stretto di quanto si possa immaginare qui questa mappa vuol rappresentare la natura la clessidra che vedete poi questo è su per abbinire gli attimi di coscienza e quando adesso sta ascoltando la mia voce e si ha parlato delle mie parole quello è un attimo di coscienza che sta esprimendo un attimo di coscienza che dura due tre secondi dopodiché deve essere lì perché è flusso ecco perché adesso sta in famosa a seguirmi perché dovete in due secondi riallineare ridare coerenza alle informazioni che io mi sto dando in questo pochissimo parlo questa è un'altra difficoltà che noi abbiamo perché il nostro raccoglie le informazioni è polisensoriale quindi non è solo la mia voce ma è il ritmo della mia voce è la tridimensionalità che vi manca è tutto il mio para verbale che vi manca la mia postura che comunque esprime che cosa vi manca ed è una difficoltà che si viene ad aggiungere a questo flusso che si continua a generare e a passare quindi abbiamo una realtà fisica che viene continuamente reinterpretata e ricostruita attraverso il nostro modo di percepire il mondo che non è dato da 5 sensi ma è dato dai sensi maggiori 5 e da tutto l'apparato sensibile che è molto più articolato e complesso quindi dobbiamo parlare di sensi e di sensibilità per vedere non bastano gli occhi quindi quindi non è un fatto di reazione elettrochimica di stimolo e di risposta entrano in gioco i significati per capire le nostre relazioni reazioni all'ambiente dobbiamo fare riferimento alla psicologia evoluzionistica parte delle scienze del comportamento che studia le origini lontane dei nostri comportamenti attuali siamo animali antichissimi le nostre relazioni con il mondo hanno radici antichissime noi si giriamo con lo smartphone in tasca perché riusciamo soprattutto i giovani ma anche noi vecchiotti a scorrere con il dito le immagini sul nostro smartphone e per ogni videata riusciamo dedicare meno di un secondo voi sfogliate e in meno di un secondo si riesce a capire mi interessa o non mi interessa proseguo o mi fermo perché noi in 500 millisecondi siamo in grado di interpretare una situazione perché 500 millisecondi perché 300 ci servono per capire cosa abbiamo davanti se è pericoloso o no e 200 per attivare i muscoli di reazione questa attitudine la utilizziamo anche sullo smartphone ma ha radici antichissime il primo assunto di fisiologia e neuroscienze è per vedere non bastano gli occhi ci vuole il cervello ma anche questo non basta sono necessarie esperienza e memoria Claudio che immagine vedi qua? no hai microfono spento vedo un paesaggio una sorta di paesaggio piuttosto frastagliato sembra una carta carta stagnola quasi è un foglio stropicciato su quale disegna Rossella cosa vede invece? Rossella Riboldi sì, ciao allora io aspetto un attimo è che io vedo dell'acqua che nella quale si riflette una roccia quindi ipotizzo sia al mare non lo so ecco oppure al lago non lo so in montagna nonostante l'immagine sia molto molto limitata sporca eccetera sia solo un'immagine sei perfettamente in grado di riconoscere l'acqua una riflessione perché evidentemente hai un'esperienza diretta che ti consente di pescare nella memoria nel già vissuto nell'esperienza una condizione simile e quindi ecco che all'immagine che abbiamo sotto gli occhi adesso si aggiunge un già conosciuto noi viviamo di tanta cancellazione e di poca informazione se non siamo capaci di utilizzare la memoria cioè il già vissuto da aggiungere all'informazione che ci arriva faremo molta fatica allora sempre per quei famosi 500 millisecondi ecco che andiamo a pescare il già conosciuto e facciamo prima quando noi progettiamo certe situazioni ambientali questo lo utilizziamo per rendere più esplicito l'ambiente o per indirizzare gli sguardi creare delle priorità di lettura guarda da questa parte questo non te lo voglio far vedere l'apparato elettromedicale dentro la tua stanza lo metto in secondo piano rispetto alla componente alberghiera in un ospedale per esempio eccetera ogni più piccolo aspetto fisiologico trova motivi nella lunghissima evoluzione nelle interazioni con l'ambiente ogni interpretazione deriva da una complessa lettura noi non ce ne rendiamo conto lo facciamo in automatico ma quando noi osserviamo un paesaggio come questo abbiamo delle modalità di selezione dei gradienti di tessitura qui non riconosco neppure gli alberi qui riconosco gli alberi ma non riconosco le foglie qui riconosco le foglie quindi questo è un primo gradiente di tessitura che mi aiuta a capire questo è vicino questo è meno vicino questo è più lontano abbiamo dei gradienti di luminanza abbiamo dei gradienti che ci danno la possibilità di capire attraverso l'attenuazione del croma cioè del colore o dei bordi quanta aria c'è fra noi e l'oggetto che stiamo osservando quindi senza ragionare in maniera immediata noi riusciamo a cogliere che cosa è vicino e che cosa è lontano ma non solo questo è un paesaggio tutto verde e quindi si innesca anche una che chiamiamo permeabilità percettiva cioè io so per esperienza atavica che se ci cammino dentro posso attraversarlo se io invece vedessi solamente il colore della roccia saprei che io i muri le montagne non le posso attraversare e quindi non si innesca questa sensazione è una delle modalità che si adottano i spazi racchiusi ristretti per creare un effetto di maggiore profondità e quindi tra virgolette libertà Aldo scusa volevo solo sollecitarti sulla questione ma qui tu stai ci stai sostanzialmente dicendo dunque che questo è un uso quasi come dire semiotico del colore cioè i colori diventano segni e indicatori di orientamento nella realtà certo assolutamente e la difficoltà è proprio data da questo intreccio di significati che si sovrappongono e si stratificano poi vi ho lasciato un breve accenno anche su questo vado un po' veloce proprio per concludere un cerchio un ciclo comunque vedete qui insisto sul fatto che l'imprinting l'elemento di base è l'elemento naturale quindi tutta la variabilità sensoriale che in natura cioè di stimolo sensoriale che in natura esiste tutte le volte che noi entriamo in un artificiale e la attenuiamo la rendiamo meno confortevole tutti parliamo di olismo ma poi dopo bisogna assegnare dei nomi a questo cosa intendiamo ecco dobbiamo mettere bene diciamo avere l'attenzione sul fatto che noi percepiamo il mondo in maniera sinestesica in maniera con tutti gli organi di senso e se noi vogliamo creare benessere se noi vogliamo creare confort ambientale dobbiamo lavorare sul progetto di tutti gli elementi che vanno a dialogare con i vari sensi non solo con uno di questi le superfici naturali sono ricche di informazione sempre se io mi avvicino a una roccia scopro sempre particolari aggiunti nuovi se io mi avvicino a un piano illuminato no è esattamente la stessa cosa che io vedo a 3 metri 4 metri anche a 30 centimetri nessun elemento naturale invece ha questa caratteristica più mi avvicino più aumenta l'informazione e lo sguardo si è abituato a toccare ciò che osserva sempre noi di nuovo non ci riflettiamo su questo fatto ma noi palpiamo ogni superficie che osserviamo lo sguardo tocca ogni superficie riconosciamo il rubido riconosciamo il morbido ma non solo riconosciamo anche il morbido che può trasmettermi calore e il morbido che invece può essere umido anche questo è legato al vissuto all'esperienza se io non ho mai avuto un'esperienza di muschio questa informazione mi arriverà molto bassa se io invece ho un'esperienza vissuta di muschio di bosco di contatto con la natura questa esperienza sarà fortissima e porterà anche con sé degli odori porterà con sé una serie di informazioni il fatto che anche l'aria non sarà ferma eccetera 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 non faccio assolutamente fatica a riconoscere ciò che è pungente ciò che non lo è ma anche ciò che è gustoso profumato che è dolce oppure poco appetitoso o addirittura disgustoso penso che Claudio se ti invito a mangiare un panino così dici ma ho appena mangiato guarda un'altra volta esattamente sicuro quindi in questo contesto questo panino ha funzionato tra l'altro parzialmente solo all'interno di un certo serie di ristoranti ma poi l'hanno tolto da catalogo perché il colore soprattutto per noi occidentali era troppo incoerente con quello che noi riteniamo commestibile e sicuro ecco un panino così se lo vediamo su una bancarella per strada non lo mangiamo in un ristorante alla moda forse giusto per l'idea di facciamolo strano magari lo assaggiamo ogni immagine comunica informazioni sinestesiche tutti gli organi di senso sono attivati quando osserviamo qualunque cosa ne ricaviamo molta più informazione di quello che effettivamente è nel campo visivo in quel momento per esempio la nostra maggiore sensibilità alla gamma dei verdi deriva dal fatto che in questo modo riuscivamo a discriminare meglio se un frutto era maturo o meno evitavamo di salire sull'albero insomma per prendere qualche cosa che non era maturo fisiologia della visione anche qui facciamo una corsa molto veloce ma giusto per dare l'idea di una complessità adesso stresso Rossella cosa vedi qua sotto Rossella? non so un gatto un gatto sì hai un gatto tu? sì sì anche io vedo un gatto ma ce l'hai? io ce l'ho sì quindi sei riuscita perfettamente a cogliere le proporzioni di questa ombra addirittura il comportamento ma hai detto un gatto sicura ma non poteva essere un piccolo cane ma tu sai che un piccolo cane non va sotto le coperte come un gatto esatto tu hai colto velocissimamente e senza dubbio queste ombre hai interpretato queste ombre le hai assegnato un qualche cosa che già conoscevi quindi il primo assunto di fisiologia e neuroscienze è per vedere non bastano gli occhi ci vuole il cervello ma anche questo non basta sono necessarie esperienza e memoria teniamo presente che il tema esperienza e memoria è sempre in gioco e mi rivolgo ai giovani ma visto che siete giovani e quindi avete poca esperienza e visto che noi viviamo di tanta cancellazione e di poca informazione quanto mondo vi manca davanti agli occhi e nel vostro nella vostra coscienza rispetto a me o rispetto ad un anziano una quantità enorme manca di mondo quindi non è una rivendicazione per dire anche noi siamo utili è proprio una presa d'atto di coscienza che più invecchio più mi rendo conto che mi mancano sempre delle cose ecco quando io progetto o quando cerco di ragionare sul mondo devo tenere presente che ho uno spiraglio di realtà davanti a me solo un piccolo spiraglio e quindi non posso pretendere di dare una lettura esaustiva di quello che vedo è come se io osservassi una partita di calcio da una piccola finestra che mi fa vedere una piccola parte del campo e pretendessi di commentare tutta la partita ecco la realtà del mondo è ancora più complessa e la nostra presunzione è ancora più spropositata teniamolo presente questo se noi l'abbiamo presente ci viene voglia di dire ma tu Claudio che cosa vedi ma tu che cosa pensi cioè sentiamo la necessità di dedicare del tempo ad ascoltare anche chi osserva il mondo da un altro spiraglio e ci rendiamo conto che la disciplinarietà che questi contenitori rigidi che un po' a scuola si è abituati ma noi per primi a somministrarvi sei il prof di scienza perché mi parli di colore sei il prof di arte perché mi parli di filosofia sei il prof di letteratura ma perché mi fai un ragionamento di creatore scientifico ecco la realtà non ha questi compartimenti stani se noi abbiamo consapevolezza di questa nostra limitata visione è più facile anche aver voglia di interrogare gli altri e di uscire da queste rigide chiusure quindi per sintesi noi vediamo con gli occhi ma soprattutto interpretiamo con il nostro cervello quello che noi osserviamo quindi il processo schematizzato è questo abbiamo la nostra sorgente miliardi di miliardi di fotoni che non si vedono qua qui la rappresentazione non è corretta arrivano sul nostro limone che è grigio il nostro limone si carica di elettroni scusate di fotoni gli elettroni riemettono solo una parte di quello che ricevono una parte lo trattengono le basse frequenze infatti il limone si scalda se è sotto il sole no? qualunque oggetto si scalda sotto il sole quella è luce che rimane e si trasforma in calore una parte viene riemessa in modo selettivato il nostro occhio la accoglie la manda attraverso le vie visive nella parte posteriore e lì si crea l'apparenza quindi è un fenomeno una sensazione psicopercettiva quella che noi ricreiamo nella parte posteriore ma non è così semplice il tutto è qualche macro immagine ci aiuta a capire che anche le cose più apparentemente più semplici in realtà hanno una complicazione e una ricchezza enorme il nostro il nostro organismo è spaventosamente meraviglioso il nostro cervello è qualche cosa di inconsurabile e facciamo solo un piccolissimo esempio questo l'avrete vista un po' tutti quanti questa immagine ecco se noi pensiamo che la retina questa piccola porzione noi diciamo si la luce arriva sulla retina il cristallino la filtra ok poi va al cervello si ma la retina prima di mandare l'informazione guardate quanti strati ha la piccola e sottilissima retina è fatta di molte cellule specializzate in dialogo fra di loro che mandano poi l'informazione attraverso le divisive al cervello quindi vedete come la complessità del nostro modo di reagire di essere e di reagire al mondo è elevatissima e rimanendo al colore ho fatto questa sintesi per dire noi abbiamo il risultato di un lavoro molto lungo quindi l'occhio le vie visive arrivano nella parte posteriore in V1 i V sono le aree dedicate alla visione la corteccia visiva primaria riesce a selezionare le lunghezze d'onda qui ancora non c'è colore poi passa in V4 che pesa i rapporti fra le tinte vicine e poi passa in altre aree del cervello e solo in queste ulteriori aree del cervello vi è l'attribuzione cromatica cioè il colore si inizia a definire cioè l'apparenza prende forma e a quel punto abbiamo la nostra sensazione cromatica ancora mancano i significati e manca un'altra cosa importante qui ne faccio un accendo non tutta la luce che arriva ai nostri occhi va alla parte posteriore del cervello che è quella che ricostruisce all'immagine il colore questo è solo l'80% il 20% va all'orologio biologico diciamo quella parte di informazione che ci serve per avere il ritmo circadiano in ordine diciamo e qui vediamo lo spettro della luce circadiana e dello spettro della visione fotopica cioè i colori che riconosciamo questa parte di luce circadiana è quella che genera il benessere che nel ritmo circadiano troviamo che qui è sintetizzato in maniera molto schematica ma giusto per avere un'idea è il fatto che la luce del giorno e l'assenza della luce della notte vanno a influire sulla produzione di cortisolo o di melatonina e ci danno la possibilità di reagire al mondo in molti modi cioè riposati o attivati puoi fermarti guarda che non ti puoi fermare perché le belve ti mangiano perché i nemici ti uccidono perché non vai a cacciare qui hai bisogno di energia qui hai bisogno di massima forza qui hai bisogno di fermarti noi questo ritmo circadiano ce lo siamo dimenticati come ci siamo dimenticati gli ultradiani e gli infradiani ma questo determinato dalla luce è molto importante per mantenere il benessere il tema del colore della luce nel progetto deve tenere presente il tema del confort percettivo di carattere circadiano qui c'è la produzione di cortisolo o di melatonina che quindi dà o toglie vigilanza o rilassamento nell'arco delle 24 ore vedete come tutto è connesso quindi esiste una componente cromatica che è di carattere fisico radiazione c'è una componente cromatica che dà un'informazione biologica c'è una componente cromatica che è di carattere invece significante tutto si incrocia le neuroscienze come ci hanno aiutato beh fino a non tanto tempo fa 40 anni fa circa intanto per capire come funzionava un cervello dovevamo aspettare che fosse morto perché non c'era la possibilità di vivisezionare un cervello attivo quindi noi fino a pochi anni fa avevamo un'idea che era molto superficiale di quelli che erano i meccanismi le modalità di acquisizione e di trasferimento dei dati quindi erano delle intuizioni intuizioni che Freud ha iniziato a sbloccare diciamo quindi a dire guardate che questo iceberg che noi vediamo è molto piccolo fuori dall'acqua ma la maggior parte è sotto anche se non lo vediamo le neuroscienze ci hanno aiutato a capire quella parte sotto ecco diciamo così come funziona e queste immagini sono dei tracciati di di attività neurale dove qui si può solamente rintracciare la frequenza di attività attenzione non la qualità ma la quantità quando io prima in quella mappa vi ho fatto vedere il prima e il dopo è un po' in questa direzione gli strumenti ci danno la possibilità di leggere la realtà oggettiva fisica o elettrochimica lo scambio sinaptico elettrico ma non i significati ti voglio bene quanto ti amo ho visto che la tua parte del cervello si attiva sempre qui qui e qui quando tu vedi la persona che ami ma quanto la ami perché in che modo non c'è scritto quindi anche qua il tema del mettere in relazione la componente strutturale con la componente espressiva gli strumenti con i significati è un tema molto forte qui alcuni degli strumenti che ci aiutano prima ad analizzare diciamo i nostri comportamenti i comportamenti i movimenti dell'occhio l'attività cerebrale via via fino alla tomografia assiale che mi dà la possibilità di capire tutta una serie di scambi sinaptici all'interno del cervello di nuovo qui ho una situazione di quantità non di qualità la qualità deriva dal contesto perché facciamo un ultimo gioco un po' un po' veloce nulla di quanto riferito agli esseri viventi è semplice quindi il nostro modulo rappresenta la parte antropometrica nostra non la parte diciamo emozionale o spirituale nessuno di voi si presenta all'amico dicendo quanto alto e quanto pesa ciao Rossella sono Aldo un metro ottantacinque e ottantasette ahimè chili e Rossella mi dice vabbè ma io non te lo dico e tu se ne frega escluso Aldo nessuno di noi presenta la nostra parte antropometrica però se ci facciamo caso noi dimensioniamo le stanze per la parte antropometrica creiamo leggi enorme per la parte antropometrica pensiamo all'ergonomia della parte antropometrica non all'ergonomia delle emozioni all'ergonomia del nostro corpo vedete come c'è un modo di leggere la realtà sempre un po' sbilanciato e l'approccio che ha accennato prima Claudio cioè dell'uscire dai contenitori di pensare ad una trasversalità è torna sempre fuori insomma quindi colore è cultura e relazione la nostra identità dipende dal lungo periodo che abbiamo passato per diventare persone noi nasciamo inetti non siamo in grado di sopravvivere abbiamo bisogno non di mesi come tanti altri animali o giorni addirittura abbiamo bisogno di anni molti anni ecco in questo periodo in questo lunghissimo periodo di formazione lì nasce si forma la nostra visione del mondo il nostro modo di interpretare il mondo ed è un periodo quello che voi giovani state percorrendo di grandissima importanza perché è in questo in questa fase beh voi siete già un po' grandi ma bambino diciamo fino a 13 14 15 anni ha una fase evolutiva estremamente complessa non è formato né dal punto di vista fisiologico né dal punto di vista diciamo morale ecco ha bisogno di un lungo periodo di costruzione perché noi siamo animali con una doppia natura quella biologica e quella culturale e questa ha bisogno di grande tempo per essere strutturata e formata per darci la possibilità di capire il mondo quindi comprensione valutazione giudizio sono una risposta psicologica e comportamentale che deriva dal nostro modo di osservare il mondo e le cose chiudo con questa questa serie di considerazioni tornando al colore il colore rosso è bello? beh sì no forse quale rosso dei 450 rossi del del dncs il colore per esprimere pienamente un carattere deve essere ospitato dentro una scena se io parlo in termini astratti di un colore non gli assegno grandi significati se invece lo porto dentro la scena allora assume dei significati faccio due esempi così se volete un po' estremi però penso che difficilmente uno si vada a comprare un maschio come me di una certa età diciamo una macchina di colore rosa anche se le prestazioni sono esattamente le stesse ma una macchina rosa farebbe un po' strano in area cattolica addirittura non ci compreremmo una macchina violetta perché perché il violetto porta sfiga ma dove nasce questo perché ma chi se ne frega no invece invece pesa in area protestante questo non pesa perché le morali del colore hanno radici profonde fino all'inizio del novecento tutte le compagnie di giro ed erano tantissime cioè quelli che campavano facendo uno spettacolo durante i 40 giorni della quaresima che appena trascorsa non potevano fare spettacolo e quindi non mangiavano e quindi facevano la fame è chiaro che il violetto porta sfiga porta fame ed è rimasto in ambito teatrale dello spettacolo in generale questa sua valenza ancora molto 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 forte sul tema del rosa ci sarebbe da fare un altro discorso che è molto più recente e contemporaneo ma non possiamo affrontare tutti gli aspetti sta di fatto che qui sentiamo che il colore fa assumere a questo oggetto un significato molto diverso e quindi in maniera stratta non posso parlare di colore se io chiedo Claudio mi versi un bicchiere di vino bianco Claudio non fa nessunissima fatica e non si mette a ragionare ma scusa ma non è bianco è giallo non esiste un vino bianco completamente bianco ma nessuno di noi ci fa caso perché assume un significato una volta che è caratterizzata da un impiego è dentro una bottiglia che riconosco in un certo modo ed è quindi letto come bianco anche se questo non è bianco in questo caso il significato prevale sull'informazione ottica l'uva bianca è l'uva nera non è né bianca né nera ma non ci facciamo nessun caso e se io dico Rossella ma hai dato una legna verde che non brucia nessuno pensa che quella legna sia colore verde perché noi assegniamo al verde l'idea del fresco del giovane della linfa ancora presente di nuovo il significato che prevale quindi per chiudere veramente il colore non è mai solo colore Rossella cosa vedi poi non ti stesso più beh dai questa è una foglia Claudio per te cos'è potrebbe essere anche una piuma però una piuma una foglia e adesso cos'è adesso è sicuramente una bocca è sempre la foglia di prima è sempre la foglia di prima è solo stata orientata in maniera diversa quindi vedete come esista una interpretazione del mondo che si circonda fortissima e ora buona osservazione mi scuso di avervi stressato così velocissimamente su questi temi tanto grazie mille Aldo è stato bellissimo è stato un per me è stato compiere una sorta di viaggio oggi abbiamo passato abbiamo fatto questo viaggio dentro le sfaccettature del colore ed era perfetta per le nostre per i nostri intenti rispetto anche ai ragazzi agli studenti quello di mostrare questo intreccio straordinario di sapere e di conoscenze che il colore suscita il colore suscita io chiedo adesso ai nostri amici collegati di intervenire per arricchire ulteriormente questo nostro incontro e di farsi avanti insomma se avete delle richieste di chiarimento delle osservazioni da fare altrimenti ho io un po' di cose da dire ovviamente prego va bene allora spiassillo io Aldo con qualche osservazione allora la prima è una richiesta di breve chiarimento di approfondimento sul tema delle sinestesie perché il tema della sinestesia cioè il tema della sinestesia vuol dire letteralmente le sensazioni che stanno tra di loro sun e estesis cioè le sensazioni che si intrecciano il tema della sinestesia non è un tema della eccezionalità una questione di eccezionalità ma le sinestesie sono un tema costitutivo della dimensione sensibile le sinestesie stanno prima della dimensione sensibile distinta tra tatto gusto olfato vista e quant'altro ecco il rapporto tra sinestesia e colore dunque è un rapporto molto complesso da dove cominceresti a sciogliere un po' questo nodo del rapporto tra sinestesia e colore questi sono nodi difficilmente diciamo affrontabili partirei da una considerazione legata alla nostra natura cioè che tipo di informazione di utilità noi ricavavamo dal colore e come facevamo a utilizzare questa informazione probabilmente la risposta è beh caro caro umano se tu non riuscivi a cogliere anche una piccola piccolissima sfumatura cromatica se tu eri la la donna di casa scusate la donna di casa insomma la donna che la casa è qualcosa di molto recente ma la donna che deve riconoscere la radice il fungo la carne che ha messo via con tanta cura perché il marito continua a promettere stasera ti porto da mangiare e non la porto mai perché gli animali non si fanno prendere facilmente scappano ma la donna che deve dar da mangiare comunque al suo figlio sa come mettere via come tenere fino a che punto può ancora dar da mangiare senza avvelenare il figlio ancora oggi la capacità di discriminare il colore da parte della donna rispetto all'uomo è maggiore ma perché perché ne andava dalla sopravvivenza quindi questa sinestesia in questo caso il fatto di riconoscere un colore ed associarlo ad una prestazione nutrizionale nutritiva le cose legate alla sopravvivenza sono le prime cose che sono da osservare da guardare ecco certo certo dopodiché il tema è molto complesso quello sinestesico perché se noi pensiamo se io tocco la punta di uno spillo come la tocco mi fermo non ho bisogno di ragionare avverto subito che punge ma quell'informazione sono riusciti a scoprire che fa una via diversa rispetto ad un'informazione puramente visiva e non tattile perché questa ha una prevalenza legata alla sopravvivenza quindi fa una via diversa e chi lo decide se io non ci ho ancora ragionato è il mio dito che pensa per me sì cioè è la mia sensibilità periferica che è in grado di discriminare cosa può essere pericoloso e cosa no e quindi dà una precedenza di via e inizia ad impostare una reazione quindi c'è una struttura una dimensione fisiologica della sinestesia cioè è il nostro corpo che è innanzitutto sinestesico assolutamente certo noi infatti dovremmo parlare di sensibilità e non di sensi ok i sensi sono i sensi maggiori ma beh le donne lo sanno perché quando dicono ma io ho il sesto senso che è di solito delle donne guarda caso perché sono in grado di essere più in sintonia con il ritmo con i ritmi e di avere un ascolto di quello che viene intorno che non è solo dato dai sensi ma è dato dalla sensibilità di nuovo era legato alla sopravvivenza legato a tanti altri parametri certo anche la struttura e la fisiologia dell'occhio comporta un elemento sinestesico perché in qualche modo l'occhio è un elemento di transito tra il cervello e l'epidermide in fondo certo sì la strada è molto molto lunga abbiamo visto prima vi ho fatto vedere una breve slide della retina di quanti elementi sono presenti e di quanta informazione e non va tutta solo alle vie visive ma una parte va invece alla parte più antica rettiliana dicono cioè la parte la migdala che sovrintende alla sopravvivenza insomma quello che tu dici poi si ritrova nel fatto che è molto importante progettare gli spazi racchiusi soprattutto quelli dedicati al lavoro o all'assistenza o alla cura perché non si tratta di scegliere il colore delle pareti ma di mettere in coerenza tutta una serie di parametri percettivi e questo è un aspetto etico non estetico cioè riguarda la qualità della vita delle persone riguarda la qualità delle relazioni ma di nuovo non c'è una grande attenzione nel progetto è un po' da costruire questo ancora bene ci sono dell'osservazione degli interventi prego se non ci sono ulteriori sollecitazioni io come dire ringrazierei il professor Bottoli per questa bellissima esperienza vedo Rossella no volevo solo la sfera emozione colore colore emozione penso sia il mondo vastissimo che giustamente come dicevi tu attiene al cervello all'esperienza e al però non so c'è qualcosa in più ti chiedo no certo che c'è come avrete notato non ho parlato del colore con prestazioni dal punto di vista psicologico come dicono no perché è un terreno minato quello dei significati che noi associamo ai colori e alle prestazioni che noi associamo ai colori siamo abituati a colore attivante colore riposante eccetera sono associazioni molto 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 rischiose perché dipendono da tantissimi fattori infatti una delle parole chiave che io comunico è dipende non date mai una risposta precisa dipende ma l'azzurro è riposante dipende hai avuto un incidente con un bel maglioncino azzurro non fammelo più vedere per favore perché la mia esperienza personale mi vieta di leggere un'emozione positiva se mi fa vedere l'azzurro ma ho un'emozione negativa ho incontrato la persona della mia vita con un periodo nel quale andava di modo il marrone beh insomma fatemelo pure vedere perché c'è un vissuto che è stato collegato con quel periodo che è molto positivo quindi il vissuto personale prevale su quei significati general generici che noi segniamo al colore quindi ci sono anche delle componenti diciamo più stabili ma sono da prendere con le pinze perché poi io posso dire sì l'azzurro ma quanto quanto deve essere grande il campo totale azzurro quanta deve essere l'intensità cioè quanto azzurro ti devo somministrare affinché si inneschi l'effetto desiderato non è così scontato e altrimenti rischiamo di andare su posizioni un po' banalità cromoterapiche insomma ecco che non è una scienza ma non è neppure una pseudoscienza è una pratica molto articolata complessa dove le componenti che hanno consistenza sono legate alla luce alla radiazione all'energia non alla componente cromatica quindi bisogna saper distinguere una serie di cose ecco dopo di che sul colore ne sentiamo di tutte insomma dai sette colori dell'arcobaleno che ci hanno insegnato tutti che sono sei e non sette dei tre colori primari che che sono anche quattro sono anche cinque sono anche sei eccetera eccetera e che tra l'altro il mondo dell'arte non ha mai considerato un granché perché nessun artista dipingeva avendo davanti primari secondari terziari non è così che pensava all'arte insomma grazie comunque l'emozione pesa certo che pesa è difficile gestirla altre osservazioni sì mi scusi io ho una domanda prego Sebastian buongiorno buonasera beh sì effiziente parlando di arcobaleno mi ho in mente forse anche perché nella prima slide mi sembrava fosse una citazione di Giot non sono sicurissimo però appunto ci sono queste due interpretazioni interpretazione si può dire newtoniana del colore nel senso che c'è il prisma che lo suddivide nel colore dell'arcobaleno che possono essere sette otto comunque è detto prima che sono una sorta di quantità discreta e poi c'è invece l'interpretazione di Giot che la vede un po' come il colore e il confine tra la luce e la luce e quindi come una sfumatura quindi una cosa di continuo anziché di discreto e la domanda è nei suoi anni di studio cioè alla fine è arrivato a pensarla più come Giot o al contrario vederla in entrambi i modi cioè alla fine sono interpretazioni entrambe valide come dire che la luce è fatta sia di corpus gli onde sì hai ragione sono entrambe valide perché il colore è un animale particolare nel senso che è l'uno e l'altro è particella ma è anche radiazione aveva ragione Newton e aveva ragione Goethe noi oggi dobbiamo fare un passo avanti cioè dobbiamo dire intanto che hanno avuto una capacità intuitiva incredibile perché mettiamoci in quei tempi contestualizziamo le cose che dicevano a quei tempi e quindi ci rendiamo conto della novità ci rendiamo conto anche perché Newton ha detto che erano sette i colori che non poteva dire altrimenti in quel periodo si diceva che non era un numero sette la sua scoperta scientifica l'avrebbe portato a rogo non all'onore delle cronache ha ragione Goethe quando in maniera molto poetica dice il colore è il dolore della luce quindi si rende conto che esiste un'interazione luce materia si rende anche conto che è così articolata complessa che non è facilmente esprimibile e poi non aveva gli strumenti per analizzare dal punto di vista elettrochimico o comunque nell'estremamente piccolo il fenomeno Goethe prestava l'attenzione a un'apparenza e quindi quello che io vedo che percepisco e Newton prestava attenzione ad una realtà fisica che incominciava in quel tempo a sperimentare e a scoprire quindi avevano ragione tutte e due osservavano il colore da due punti di osservazione diversi quello che anche io suggerisco ai colleghi quando parliamo di colore dobbiamo cercare prima di rappresentare la mappa della complessità e all'interno di questa mappa andare a collocarci io chi sono sto parlando da progettista da artista da archeometra da psicologo sperimentale da neurologo da fisico da informatico se non vado a chiarire il mio punto di osservazione da storico da antropologo se non chiarisco il mio punto di osservazione rischio di non essere utile al dibattito al confronto alla crescita però hai ragione oggi diciamo avevano ragione tutti e due perfetto grazie grazie Sebastian bene se non ci sono altre osservazioni io davvero a questo punto concederei il nostro ospite lo ringraziamo ringraziamo il professor Bottoli per aver partecipato speriamo di averlo in qualche altra edizione dei nostri pomeriggi culturali ancora sul tema del colore perché oggi abbiamo scoperto che come dire abbiamo solo visto una sorta di 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 grande di grande traccia di come si possa articolare il mondo del colore con lui io ringrazio davvero il dipartimento di storia dell'arte che ci ha messo sulle piste di Aldo Bottoli vi ringrazio vi invito alla prossima conferenza che sarà il 23 aprile sarà dedicata a un altro tema complesso di grande come dire interesse anche dal punto di vista degli intrecci dei saperi e delle emozioni che è il rapporto tra la fede e la rete tra la fede e la rete tra la fede e internet ecco con questo invito io vi saluto vi ringrazio per aver partecipato così tanti siete veramente tanti oggi e ci vediamo al prossimo incontro ancora grazie al professor Bottoli buona serata grazie a voi buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti